Musica Lasciate che esprima tutta la mia gioia per essere qui con voi e ringraziare l'IFAD per questo forum così importante. Il movimento Slow Food e Terra Madre oggi vive una realtà molto particolare che è determinata da un sistema alimentare globale che non funziona e che genera sofferenza in larghi strati dell'umanità e anche per il nostro pianeta. È un sistema alimentare che vive dell'assurdità di una produzione incredibile di alimenti e nello stesso tempo di una produzione impressionante di spreco come mai nella storia dell'umanità si è potuto considerare. Che vive del fatto che in questo pianeta ci sono 850 milioni di malnutriti e che ogni minuto muoiono bambini per insufficienza alimentare nel momento in cui il 40% della produzione alimentare nel mondo viene sprecata. Sprecata. È un sistema alimentare che vive di un miliardo e 600 milioni di persone che soffrono di ipernutrizione, di malnutrizione con una crescita esponenziale di malattie come il diabete come l'obesità come malattie cardiovascolari determinate da una cattiva alimentazione. Questa è la realtà. Questo è il sistema in cui noi oggi viviamo e che per certi aspetti ci pone in una dimensione non solo di riflessione ma anche di scelte politiche, culturali che il pianeta si deve porre per il futuro dei nostri figli per il futuro di questa umanità non è più tollerabile che ci sia ancora oggi la morte per fame quando quello che si spreca in armi è di proporzioni indegne e indecorose quello che si spreca con la incapacità di ritornare sui propri passi di riflettere sul fatto che aver posto al centro di tutto il profitto il profitto sta generando uno sconquasso di proporzioni inimmaginabili cosa ci sta al centro di tutto al centro di tutto ci sta che nell'ultimo secolo in maniera crescente il cibo ha perso valore il cibo non ha più valore il cibo è diventato merce commodity non si chiede quanto vale un cibo si chiede quanto costa un cibo e non si ha la forza di capire la differenza che c'è tra valore e prezzo una cosa è il valore un'altra cosa è il prezzo questa umanità che si concentra unicamente sul prezzo senza la valorialità del cibo sta generando questo sistema alimentare che io definisco criminale un sistema alimentare criminale stiamo perdendo la fertilità dei suoli i suoli in ogni angolo del pianeta perdono fertilità e la popolazione aumenta e noi sappiamo che cosa abbiamo davanti stiamo perdendo la proprietà dell'acqua e anche l'acqua stessa con sprechi in campo agricolo che sono inimmaginabili il 78% dell'acqua viene usato in agricoltura e spesso malamente utilizzato in agricoltura senza la saggezza dei nostri vecchi che avevano buon senso nell'uso dell'acqua senza pensare che le risorse del pianeta non sono infinite eppure si continua su questa strada che è la strada che porta alla distruzione che dire poi del fatto che negli ultimi 110 anni abbiamo perso il 70% di biodiversità sul pianeta specie genetiche di frutta di verdura di razze animali scomparse dal pianeta perché si privilegiano le specie forti quelle più produttive le razze animali che possono dare di più da sfruttare in maniera più intensiva e così sulla faccia della terra noi stiamo distruggendo il futuro dei nostri figli perché la biodiversità è il futuro dell'umanità un'umanità che accetta di perdere la biodiversità in virtù di una sovrapproduzione va bene è un'umanità incosciente è un'umanità che non rispetta il patrimonio che i nostri padri ci hanno consegnato che non rispetta la dignità di milioni e milioni di donne che in ogni angolo del pianeta hanno fatto con poche cose i più grandi piatti del mondo e hanno salvato l'umanità dalla fame questa è la realtà allora io vorrei portare due riflessioni a questa assemblea mi piace che Mirna mi ha già dato la direzione la prima riflessione la prima riflessione da sempre Terra Madre ha voluto che i popoli indigeni all'interno di questa rete avessero una loro autonomia e una loro istanza e l'appuntamento di Shilong è un appuntamento straordinario e strategico io ringrazio Frank e tutti coloro che stanno lavorando per questo con poche risorse dico questo va bene anche rispetto al mio paese che si sta prestando a questo grande circo Barnum dell'Expo universale senza avere al suo interno un indigeno una popolazione indigena un sapere indigeno ma solo in predominanza industria multinazionali governi allora vi dico questo che l'orgoglio che voi dovete avere per quello che rappresentate non può essere inteso come una forma di benevolenza cercherò di essere chiaro voi popoli indigeni non siete gli ultimi della terra è ora di farla finita con questa forma di benevolenza nei vostri confronti è ora di farla finita io vorrei che voi aveste benevolenza nei nostri confronti che voi ci indicate la via per uscire da questa crisi alimentare perché questa crisi alimentare non è il frutto della sana povertà anzi la benedetta povertà questa crisi alimentare è il frutto dell'ingordigia dell'avarizia del pensare sempre ad accumulare accumulare ricchezza dopodiché quando moriamo non ci portiamo dietro le tasche con i soldi ci portiamo niente ecco allora che questo tipo di saggezza che voi rappresentate è una saggezza politica economica è ora di farla finita io vorrei che un giorno o l'altro questo posso dirlo come che voi benevolmente fate un forum per gli occidentali i grandi industriali del cibo anche gli operatori come noi va bene e con benevolenza ci date le linee e ci aiutate a uscire da questa situazione perché usciremo da questa situazione con i vostri valori non usciremo da questa situazione con valori nuovi i valori nuovi sono quelli che voi rappresentate e ne indico tre che siano ben chiari e in questo non guardo voi ma guardo i visi pallidi tre 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 grandi valori primo primo su tutti la sacralità del cibo il cibo è sacro la valorialità del cibo parte dal fatto che essendo una cosa intima che da quando siamo nate le nostre mamme ce l'hanno date col seno materno ha una sacralità che noi dobbiamo rispettare dove la troviamo la valorialità se non nella sacralità perché ridurre la sacralità solo a una dimensione di questa o quella religione la sacralità è un bene di tutta l'umanità anche di chi non crede in una specifica religione esiste una sacralità del rapporto che noi abbiamo con il cibo che va bene al di là delle religioni e che insita nella natura umana nella misura in cui tutta la storia dell'umanità parte dal seno materno parte tutta da lì tutto il cibo e noi siamo viventi perché mangiamo nessuno se lo dimentichi tutti siamo viventi perché mangiamo e quando incominciamo a mangiare e quando incominciamo ad allattarci al seno materno in quel primo momento avviene il più grande atto di sacralità e di amore di tutta la nostra storia perché la madre che dona il cibo al bambino e il bambino che si attacca alla vita tramite la madre è l'elemento più sacro più distintivo e non per niente la terra è madre non è terra papà non è terra padre la terra è madre perché dandoci il cibo rappresenta l'elemento femmineo materno che noi dobbiamo avere a cuore e questo c'è in tutta la storia delle popolazioni indigene in qualsiasi angolo del mondo i popoli indigeni questo elemento distintivo lo portano con orgoglio e questo è quello che noi dobbiamo imparare secondo elemento al centro di tutto il vostro operare c'è sempre la comunità guardate che questo è straordinario il vostro lavoro sempre e comunque fa riferimento alla comunità oggi questo sistema alimentare non pensa alla comunità pensa ad accumulare profitto per continuare ad accumulare profitto la comunità quello che noi chiamiamo bene comune è qualcosa ancora più importante del bene comune perché la comunità è in carne ed ossa la comunità parte magari da un nucleo familiare si estende al villaggio si estende a un popolo e arrivo a dire la nostra comunità di destino è il mondo noi dobbiamo avere a cuore i destini del mondo con la stessa amorevolezza con cui abbiamo a cuore i destini della nostra comunità porre al centro di tutto il nostro operato di tutta la nostra vita la centralità della comunità è un esempio straordinario di politica di politica non avete voi bisogno di andare a imparare la politica alle Nazioni Unite e con buon rispetto per nessuna istituzione perché voi la politica del futuro la incarnate nei fatti terzo elemento la cura del pianeta la cura della terra la cura dei boschi la cura dei fiumi la cura degli animali la cura di qualche cosa che è che siamo anche noi stessi noi siamo terra ci è dato di vivere questo momento come soggetti distinti ma apparteniamo tutti alla terra e la terra nostra madre ci indica che questa visione antropocentrica solo l'uomo solo l'uomo senza considerare le piante senza considerare gli animali senza considerare i monti i laghi i fiumi è una visione perdente non esiste comunità e non esiste popolo indigeno che non ha questa visione di cosmologia completa queste tre cose guardate bene queste tre cose potrebbero essere prese messe in essere e essere il balsamo per le ferite di questo sistema questo sistema alimentare che genera queste ferite hanno una sola medicina una sola medicina sacralità del cibo centralità della comunità cura del pianeta e non sto parlando di qualcosa che è fuori dal mondo io sto parlando di politica sto parlando di economia sto parlando di modo d'essere e non sono qui a fare il peana per voi altri sono qui a dire che la strada l'abbiamo persa noi strada facendo perché questo ce lo insegnavano i nostri nonni qui in Italia anche solo tre o quattro generazioni fa e ci mettevano sulla retta via di dire rispetta l'ambiente rispetta le persone sia onesto con te stesso sia onesto con gli altri pensa innanzitutto alla comunità perché abbiamo perso questa strada e oggi non c'è santo non usciremo da questa situazione se non cambiando il paradigma da molte parti si dice bisogna cambiare il paradigma ma soffriamo a cambiare il paradigma perché stiamo stiamo in una situazione di di aver perso la strada io invece penso che voi questa strada ce la potete indicare aggiungo ce la dovete indicare ce la dovete indicare perché voi siete rimasti nelle vostre comunità un paradigma vivente di come questo pianeta si può salvare la seconda riflessione che voglio fare è invece di natura come dire più contingente ed è questa noi guardiamo con molta attenzione al lavoro straordinario che fa l'IFAD che fanno molte associazioni molti governi però attenzione c'è un nervo scoperto in tutto questo lavoro che noi facciamo mi metto anch'io qual è il nervo scoperto il nervo scoperto è questo tipo di economia volete che sia ancora più sintetico il nervo scoperto che dà dolore si chiama libero mercato che libero non è che libero non è e in questo momento applicare le leggi ferree del libero mercato al cibo e alla produzione alimentare è un crimine un crimine sì si applichi le leggi del libero mercato al manufatto una bottiglia un vestito una macchina ma applicarlo al cibo significa mettere in ginocchio comunità contadine in ogni angolo del pianeta volete degli esempi in questo momento in Italia in Italia i contadini allevatori prendono 20 centesimi al litro per il latte 20 centesimi che non si capisce neanche e difatti stanno chiudendo le stalle perché perché sta arrivando latte dall'est Europa a tonnellate va bene e butta giù il prezzo i contadini sono ridotti gli allevatori alla miseria 20 centesimi ho avuto modo di dire l'altro giorno all'Expo che un biglietto per entrare nell'Expo in Italia costa 100 litri di latte ma vi rendete conto ma vi rendete conto non vale più niente il latte vale un biglietto per un turista ma vi rendete conto che cosa vuol dire per un allevatore prendere 20 centesimi al latte del litro è un disastro e lo stesso possono dirlo in questo momento i contadini messicani i contadini messicani dove è nato il maes la patria dove è nato il maes il 37% della produzione di maes arriva dagli Stati Uniti con maes transgenico che costa di meno del maes messicano e in Messico si perde buona parte del maes autottono perché costa di meno quando dicevo il costo non c'è il valore è il costo che importa cosa importa e io ho letto una cosa che grida vendetta davanti a tutta l'umanità che in Messico il 5% dei contadini soffrono di fame è mai successo nella storia dell'umanità che i contadini soffrissero la fame o bene o male i contadini avevano sempre la possibilità di portare a casa il cibo in Messico oggi questa situazione riguarda il 5% dei contadini messicani sottoalimentati ma questo che civiltà è ma come possiamo parlare di questa civiltà se è al centro di tutto tanto non c'è problema c'è qualche problema per l'alimentazione ci penserà la Danone ci penserà la Nestlé ci penserà il McDonald's ma no non è così che funziona il mondo prima di tutto le comunità quando le comunità sono felici quando le comunità lavorano quando le comunità rispettano gli ecosistemi noi dobbiamo avere a cuore che loro innanzitutto sono il nostro bene più prezioso e dici queste cose ti guardano come se fossi uno che viene da un altro pianeta no no stiamo con i piedi per terra noi abbiamo i piedi per terra e questo concetto di governance internazionale un giorno o l'altro lo dovranno capire tutti gli stati tutti gli stati anche quelli che sono sedi deputati di grandi multinazionali lo capiranno anche i governanti del nord america perché perché anche lì sta crescendo la sensibilità dei contadini sta crescendo una nuova classe di contadini e badate che sta crescendo anche un nuovo cittadino non più consumatore passivo ma coproduttore quando io compro io decido anche che tipo di agricoltura sostenere comprare direttamente da un contadino aiutare un giovane contadino un giovane che lavora in maniera biologica è una scelta che noi dobbiamo fare noi non dobbiamo più essere consumatori passivi noi dobbiamo essere coproduttori e la vicinanza alle popolazioni indigene non è un'opzione folclorica la vicinanza alle popolazioni indigene è il nostro futuro ragione per cui questo tipo di tematiche che oggi sembrano quasi da sovversivi state certi che diventeranno il pane quotidiano me l'avessero detto pochi anni fa che un pontefice romano dice queste cose io avrei detto non è possibile eppure il pontefice romano dice queste cose è ora che tutti si mettano in ascolto in ascolto della vostra storia delle vostre comunità e voi mettetevi in posizione di amorevolezza nel spiegarci con santa pazienza che quello che fate non è una scelta come dire del bel mondo antico quello che voi fate è il nostro futuro e quindi noi dobbiamo muoverci in questo contesto la strada sarà ancora lunga può darsi ma non credo non credo perché questa crisi sia chiaro a tutti non è una crisi normale questa è una crisi particolare è la crisi della terra madre che è stanca che non è più sopporta più di essere depredata delle risorse che hanno una loro finitezza e se questo è l'unica soluzione è cambiare strada vedete c'è una bella metafora per tanto tempo questa grande nostra civiltà di cui ci vantiamo è andata avanti verso il progresso dietro dietro ha lasciato le donne i contadini i popoli indigeni i vecchi tutti dietro perché non sono produttivi non sono funzionali all'accaparramento tutti dietro bene avanti di questo passo questa umanità è arrivata sul baratro c'è un baratro siamo arrivati lì o ci buttiamo tutti nel baratro o torniamo indietro se torniamo indietro la strada ce la indicheranno le donne i contadini i popoli indigeni i vecchi loro ci indicheranno la strada guai chi non li ascolta chi non li ascolta è fuori dal mondo e oggi fortunatamente tanti di questi signori saccenti arroganti e cominciano ad andare in crisi e noi amorevolmente li seguiremo perché la loro crisi sia irreversibile e dia a noi tutti una speranza di ricostruire un futuro diverso grazie a tutti Grazie a tutti.